Il filo conduttore della mostra Oltre città, utopie e realtà a Villa Bardini fino al 19 gennaio è la letteratura. Un viaggio mai tentato per raccontare le città nella rappresentazione dell'arte che riunisce dipinti, sculture, architettura, fotografia, suoni. La città è un organismo complesso, è un organismo fluido ed è un organismo non estetico e nemmeno poetico. In realtà noi abbiamo cercato in ciascuno di noi e in ciascuno di coloro che visiteranno questa mostra un'estetica e una poeticità. Per la prima volta è esposta a Firenze anche l'opera di Richter che traduce l'idea del movimento e del dinamismo di una città che si smaterializza sotto gli occhi dei visitatori come se la osservassimo dal finestrino di un treno. Ma c'è anche le Curboasie, Boccioni, Burri, De Chirico, Michelucci, Pistoletto e molti altri paesaggi umani immaginati da artisti dei secoli XX e XXI. Non poteva essere che così perché la città non è solo urbanistica, non è architettura, non è musica, non è poesia ma tutte queste cose insieme. La mostra è sostenuta da Generali Valore Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron che già in passato avevano collaborato per mostre di successo. Si può sintetizzare in una frase di Italo Calvino, le città invisibili, dove dice che le città non devono essere luogo solo di scambio di merci ma anche di idee, di pensieri e di ricordi. Quindi una grande attenzione all'uomo nelle grandi metropoli. Da cinque anni noi come Generali Valore Cultura apriamo le porte dei grandi artisti e dei grandi musei agli italiani organizzando eventi, mostre.